Saluto un ragazzo da qui e da una scatola del postale, quindi ha disalto la capitaneria. Venite pure, vi faccio vedere un uovo. Venite qua un attimo. Rimanendo all'ombra, mi raccomando. Allora, quindi da questo momento si è già attivato, io l'ho accorgenduta alle uova e questo ci indicherà il tempo che ci metterà in mondo. Ok? Quindi lo stesso lo mettiamo sopra. Le uova si lasciano qua? Sì, le uova si lasciano qua perché la posizione è ottima. Quindi mi raccomando, vigilate tutti quanti, è importantissimo che tutti voi vigiliate su queste uova, perché sono un dono che la natura è fatto. Grazie. 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 Grazie a tutti.